La civiltà cattolica presenta Abitare nella possibilità Il Vangelo di De Andrè La buona novella compie 50 anni Di Mariano Jacobellis Primo novembre 1970 Lo squarcio La spada nella roccia friabile del pentagramma italiano Un'ascia di parole e poesia Declinate in musica e voce La buona novella compie 50 anni E si attesta come il capolavoro indiscusso Di sicuro l'album concept più riuscito di De Andrè Se non il più riuscito della discografia italiana Forse persino il suo miglior disco Dal quale non a caso Pescherà massicciamente in occasione della sua ultima tournée De Andrè ne parla così Si era in piena lotta studentesca E le persone meno attente Mi dicevano Ma come? Noi andiamo a lottare nelle università E fuori dalle università Contro abusi e soprusi E tu invece Ci vieni a raccontare la storia Della predicazione di Gesù Cristo Non avevano capito Che voleva essere un'allegoria Che si precisava nel paragone Fra le istanze migliori e più sensate Della rivolta del 68 E istanze Da un punto di vista spirituale Sicuramente più elevate Ma da un punto di vista etico-sociale Direi molto simili Che un signore 1969 anni prima Aveva fatto contro gli abusi del potere Contro i soprusi dell'autorità In nome di un egalitarismo E di una fratellanza universali Si chiamava Gesù di Nazareth E secondo me È stato Ed è rimasto Il più grande rivoluzionario Di tutti i tempi A distanza di 50 anni La buona novella Conserva una forza E un'attualità Incredibile Un album da ascoltare E riascoltare Lasciando che le parole di Faber Penetrino dentro di noi E ci mettano in discussione È fare l'esperienza di Tito Il quale Davanti al Cristo morente Sperimenta l'amore In una pietà Che non cede al rancore L'annuncio di De André È segnato Dalla struggente ricerca di riscatto Della condizione umana Sintonizzarsi sulle sue frequenze È orientare la coscienza Verso i derelitti E gli emarginati Verso i perdenti Che il mondo da sempre Lascia sul terreno Nella sua inarrestabile corsa Verso il trionfo materiale Mercato Tecnologie Deterrenza totale Riscoprire e riascoltare oggi La buona novella È provare a mettersi davanti alla croce E rivolgersi a tutti gli altri crocifissi Della storia A tutte le morti innocenti È provare a mettersi in dialogo Con una coscienza laica Che ha saputo interrogare con profondità L'esperienza umana Restituendone Spesso senza troppi orpelli E contratti di crudezza La ricchezza E la problematicità Riscoprire e rica Grazie a tutti